olivia dai rientra che ti devi asciugare col fono ma perchè che ho fatto mo ma tu mi hai detto anto anto olivia dai che ti devi asciugare scappa olivia dai cucciolo dai che ti devi asciugare se no ti prende freddo andiamo andiamo li piangi dai che non esci bene nella ripresa che sei tutta piccola e nero piccola e nera comunque è già quasi asciutta le hai passato il forno allora andiamo dai ferma l'ha detto anche peter green come ha detto ormai i film si fanno col cellulare va vero l'ha detto lui cos'è il cinema oggi è questo olivia da bella l'ho come basta? in testa? è già asciutta e come si è asciugata? si è asciugata da sola lei? si è asciugata da sola quello asciugamano perché è stato molto bravo dai una leccata e chiudi il video dai un bacino saluta i nostri amici del canale e iscrivetevi dillo iscrivetevi aspetta a rifare iscrivetevi carino ciao olivetta si è sfavata va bene ci vediamo al prossimo video vai lasciala come è asciutta bandara? libera libera libertà ora ti sudi di nuovo fermati sei nervosita questo bagnetto? ciao olivetta ciao olivetta 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 vieni olivetta olivetta ecco l'acqua ecco l'acqua 45